che ruo amico forse avrei dovuto fare qualche impostazione di regolazione del colore ma facciamo tutto naturale c'è l'ultra pixel capito si attiva l'ultra pixel dove siamo qui? mendrisio qui siamo in corso bello ci sono i paletti automatici il nucleo però devi avere la chiavica capito per far discendere mica tutti possono capito vanno in pulso esattamente ecco questo è il vecchio nucleo storico quindi ho oltrepassato al confine lì non c'è europa vedi quella bandiera vedi quella bandiera oltrepassato al confine quindi sono un uomo di mondo non sono uno che vive in una stanzetta no e posso già definirmi più avanti di certa gente beh hai fatto l'esperienza diciamo che hai fatto un'esperienza viaggifera hai fatto un'esperienza viaggifera qui vedi tutto il nucleo e facciamo due viuzze così tanto per farti vedere la vecchia mendrisio quanto è bella quanto è bella la vecchia mendrisio quanto è bella la vecchia mendrisio 4-5 tettoni niente male eh eh sì diciamo materiale ce n'è di buona materiale ce n'è di discreta e soprattutto non vadano molto i vestiti cosa che io amo eh sì sì non c'è proprio quell'idea di omologazione che c'è ma non è così alassio muretto vettino carino ma se uno si vuole vestire bene ci veste bene se uno mi stia male si veste di merda no non si veste come vuole non c'è però ci sono posti tipo qua che sono miscelati tutti insieme non c'è vestito bene o vestito male c'è vestito o nudo esatto quindi c'è se uno è vestito e vestito non è bene né male ecco casa per holding questa antichissima guarda anche il portone vedi ci mettono pure di etichetta capito edificio edificio del tardo 600 a due portici colonnati pian terreno salone con soffitto cassettoni e pavimento di tipo veneziano lo sa anche bianche nero puoi entrare dentro si puoi dare un'occhiata un video al buio ecco ecco vedi stanno risistemando il calumino ecco ecco che belli questi muri guarda la vita come esce l'uomo costruisce sassimo guarda la vita come spunta inarrestabile inarrestabile un filo d'erba che spacca in buono mattonelli e sembra loro dappertutto la natura poi le radici fanno rialzare guarda guarda che piccoletti guarda che piccoletti vedi la vecchia mendriso sembra che non vola mosca sembra che tutto dorme senta che sembra che non succede niente e invece quello che deve succedere succede pubblica fontanilla che esposizione rifiuti guarda lì guarda la cornice in legno notare la cornice in legno ordinanza municipale giorni di raccolta ogni infrazione da gazzac di multa da un minimo di 50 un massimo di 10.000 franchi ti ricordi la storia sul corriere della sera che era uscito con l'articolo di con lo svizzero che è andato in galera perché aveva messo fuori rifiuti fuori ma c'è anche scritto fuori sanzioni da 50 a 10.000 franchi le ne andate i 300 franchi di multa magari le ne andate i 10.000 franchi era spropositata la multa ed è scritto pubblicamente non è che non lo sai dici non lo sapevo le solite balle che dicono un po' tutte guarda che belli quei gerani quello è il segno della svizzeritudine capito capito che guarda la svizzeritudine che un balcone di gerani strafioriti una tranquillità impensabile molto più fantasma di qua si alla fine si c'è tutto e non c'è nulla non ho capito bene che sto fatto devi conoscere i luoghi per sapere i luoghi vanno vissuti però una parola grossa ma io lo so ecco qua qua ci abbiamo la chiesa questa è storica no è una zona questa è una storia molta storia alle spalle molta cultura molto fermento ecco qua caro domingo prima eravamo di sotto guardare la chiesa e invece invece ora siamo di sopra capito eccola qua chiesa parrocchiale di santi cosmo e damiano eretta negli anni 1863 1875 voilà io sarei perfetto nel ruolo di mingo l'assistente di fabio con alex invece che il cagnettino a bordi dietro alex ecco qua ecco qua la scalinata e così vedi l'assenza di piazza uno esce dalla messa non c'è la piazza vedi ecco qua poi le aiuole vedi a ogni stagione a ogni stagione strappano via tutto qui ripiancano i fiori di stagione fanno le aiuolette ad un rimedio uguale capito dove c'è stavo la principessa del patriarcato c'è tutto scritto Mario Circello dove lo troviamo per un amico lo troviamo nell'opera storico-micrologica interattiva e multimediale creata col contributo dell'amico del piccolo teatro e dell'amica Elena Ferrara capito non ti dimenticare non ti dimenticare dell'amica Elena Ferrara e voilà qui si decidono un po' di appalti affari in questo porticato ecco lì vedi aiuole si è andato dietro a lavorare hopla beh ci andiamo di qua hopla chiari respiri caro Roby in questo paeso ottimo ma poi come dici te Mario ogni posto è bello ma sono tutti uguali una cosa che può avere un posto automaticamente non può avere un altro oppure molti posti hanno la bellezza si spalma certo oppure molti posti hanno le stesse cose dappertutto ci sono le chiese dappertutto ci sono i musei dappertutto ci sono ogni posto ha il suo luogo da lì l'idiozia quella che secondo me è un'idiozia il famoso io sono più intelligente io sono più bravo io sono più bello il mio posto è più bello non c'è più non c'è meno non c'è queste 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 cazzo di cose voilà appartamenti di lusso eh l'hanno appena rifatto anche questi proprietà della chiesa naturalmente c'è da chiedersi come come sia possibile ma è così voilà questa 15 febbraio 1798 15 febbraio 1898 questa piazza avvolge oggi un secolo erigendo l'albero della libertà mendrisio forte d'altissimi sensi affermava la sua indipendenza e l'unione all'elvezia la sua indipendenza e l'unione all'elvezia che per qualcuno potrebbe essere un controsenso ma in realtà non è un controsenso è la condizione ci sono più farmacie e bar che abitanti da me c'è anche la parafarmacia che cos'è la parafarmacia? la farmacia dei paraculi esatto dove si curano i paraculi ah ecco ecco abbiamo capito qui attraversammo opla opla grazie grazie cara e qui siamo dall'altra parte del nucleo nucleo storico capito caro amico storico mitologico ma non è multimedialo però non è multimedialo e ce lo sono io è una piattaforma ai tu ai tu mondiale capito mondiale caro amico mondiale che io ho autodefinito la nuova bibbia dell'era moderna capito? capito si che ho capito mario secondo te dovrei dovrei far dovrei mostrare un pochettino di più all'interno dei miei video e e il libro della nuova opera o e dovresti mostrare la copertina perché la mostro poco eh si si non è proprio molto nota insomma diciamo così non è rimasta impressa nella mente degli individui una volta c'era una volta c'era la stipe dei seppenti e 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 per quello che sei fuori perché abiti fuori si ha capito ecco qua ecco qua ecco qua la miuzza questo è uno degli stabili uno degli stabili storici ecco quelle sono le case che mi piacciono molto sasso senza troppe balle ecco qua vediamo fatto una nuova entrata spigoli spigoli dappertutto spigoli in modo da sfarcellarsi se si fai ecco ecco la via vecchia voilà voilà il mio spacciatore di libri non c'è oggi non ci sono accese ma mi permetterei di consigliare qua dica dica ci sono libri poi per tutto si l'opera storia mitologica a demettere a demettere a demettere è intitolata le leggi fondamentali della stupidità umana no de 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 capito capito la bottega del fornaio ma qui è dove lavoravo io una volta ci ho fatto pure un video io facevo il garzone del fornaio dentro lì c'è il filosofo un altro bar loro lo chiamano Terun c'è scritto là vedi Terun 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 il filosofo è un filosofo probabilmente il meridionale che lo chiamano Terun e quindi che filosofo e voilà bello quello impermeabile da SS cazzo quello lì è uguale a quello di profondo rossa eh bisogna che ci faccia un salto vedere quanti soldi vuole ma che belli libri antichi vecchi questo c'è veramente quando mi fermo ci butto via tre ore quattro ore perché come fai eh guardi c'è roba antica devi cercare devi devi spulciare eccolo eccolo capito io io te volevo presentare il mio spacciatore dei libri ma non c'è stava buongiorno salve signor Paoloci ciao 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 la cartoleria gli angioletti ecco qua ecco qua che ero amico guarda guarda che ero amico qua potremmo fare qualche cosa che ora mi è venuto in mente no ma quello che ti volevo fare a vedere è che tu passi per la cittadina è il problema dei rifiuti di Napoli ecco lì ecco caro amico vedi caro amico eccolo qua il problema dei rifiuti numerato con tanto di sigla 29A il 29B push zack voilà una sciapina che adesso hanno tolto i fiorellini perché ogni stagione ripangano, rizzappano, lasciano respirare una settimana rimettano i fiorellini ecco come si fa a non avere in giro spezzatura ti sembra poco ti sembra difficile ti sembra complicato ci hanno impresa scava un buco mettono sotto i cosi arriva il camion no? in pieno cielo te voilà ed è mille volte meglio che avere montagne di rifiuti e roba in giro senti puzza senti odori senti qualcosa c'è qualcosa che ti ricorda spezzatura qui niente no? vedi ci sono due due apparecchi di qualcosa due oggetti pronto e basta si senza troppe palle ecco quattro sedi e sulla panchina capito che rumico voilà e dietro ci sono i rifiuti eh? ecco no mi era mi era venuto in mente però a questo punto devo rimpicciolire il mio ecco la mia presenza l'intervista con Crazy Robby lo carichi questo? eh? certo che lo carichi questo non so magari lo intitolo a spasso per Mendrisio con Crazy Robby o Crazy Robby o Mendrisio che ne so qualcosa faremo siamo sul quarto d'ora qui eh quindi direi che magari di non pronuncio si 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 15 è venuta una battuta che però non puoi fare se no potrei puoi farla no eh? l'uomo di Torino eh l'esercizio l'esercizio l'uomo di Torino che gli faccio vedere Mendrisio la cultura di Mendrisio eh qual era che te era venuto? visti dello strappone no niente da fare va bene caro Crazy Robby adesso ci siamo fatti quella passeggiata poi ci avevo con la mannina si io intanto devo ringraziare Mario Circello alias Radio Young Out che è il mio ospitale non fare nomi non fare nomi il mio ospitale cos'hai da nascondere? te lo dico d'amico fatti le cazzi tua ahahahah ecco mi ha ospitato fino a qui mi ha fatto un giro mi ha mangiato una focaccia abbiamo visto qualche figaccia mi ha mostrato esatto qualche figaccia è venuto a salutarti anche Coccodè e non ti dimenticare che l'amica Coccodè mia nipotina cara adorata è venuta a salutare cosa ho notato qui? un silenzio incredibile poi dove abito io eeeh qui eeeh buttano giù le robe io veramente un altro mondo come civiltà infatti che io non è che sia sono dato a Dorigo già 4-5 volte come era la storia non ho capito Dorigo è peggio che qua molto peggio proprio una città fantasma stiamo filmando? si ma solo no ma no ma non va in televisione tranquilla non lo mandiamo in televisione va solo su youtube quindi non quindi non va solo in Svizzera ma va a livello mondiale ciao e lo sguardo dei Grisirubi era uno sguardo patriarcale indirizzato a livello mondiale a livello mondiale a livello di erezione mondiale ecco quindi caro amico se puoi fare le cose no ma poi le donne le donne veramente ci sarà il mio discorso da fare lunghissimo non importa cioè la donna o ha qualcosa che ti attira o sennò non sa assolutamente di un cazzo punto non c'è proprio veramente è una cosa che va oltre la carne le ossa chiaro amico lo spirito l'anima o ti trasmette un qualcosa la donna eh sì o altrimenti niente o sennò assolutamente vuota come contenitore beh immagino che sia altrettanto anche da parte delle donne nei confronti dell'uomo a dipendenza dal percorso evolutivo esatto vuoi essere un mister nessuno dentro con tutta l'apparenza che vuoi di cuore eh sì vuoi essere uno straccione magari buttato in un angolo e avere un'infinità di cose esatto essere ricco va bene poi ciao ciao con la manina vuoi salutare qualcuno in particolare? no vabbè salutiamo ovviamente tutti e stra tutti Tommaso, Serafino gli soliti gli insoliti tutti quanti vabbè adesso non mi viene in mente neanche uno comunque tutti tutti nessuno escludo salutiamo le donne donne uomini neutri patriarcali matriarcali un po' di tutto via dai e niente tutto qua bene hai stato felice di questa esperienza? sì 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 assolutamente sì assolutamente sì molto assolutamente sì un pellegrinaggio verso il re degli hangout fatelo calma calma troppa roba poi fa fatica a gestirla è un po' alla volta calma 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 già ne hai avuti due a distanza di poco tempo verrà avvicinata sì va bene va bene allora cari amici il re degli hangout e e l'amico Crazy Robby anche detto su grosso suddito non che suddito ombriagone non che suddito ointronato non che suddito ointronato ve famo ciao hai capito? con la manina ve famo ciao ciao a tutti ciao ciao ci vediamo in qualche live a febbraio però o giugno febbraio no perché mi devono sbloccare il canale a febbraio ok va bene